L'Ordine degli Ingegneri di Teramo ha organizzato un convegno per incontrare i genitori teramani e per parlare correttamente di terremoto, senza ansia o paure, ma tenendosi ad un'informazione scientifica di esperti e professori dell'Università dell'Aquila. L'obiettivo è quello di, cerco una parola un po', di educare, di partecipare a questo fenomeno che c'è, che comprendiamo ed è giustificato dal fatto che c'è ansia, c'è paura, perché è qualcosa in attesa, non conosciamo il momento, nell'intensità, e quello che poi conosciamo è quello che succede dopo. Quello che succede dopo, che comunque sono delle fonti informative che servono, soprattutto a noi tecnici, per capire dei comportamenti, leggere delle situazioni e dare le giuste indicazioni, sia per gli interventi ma sia di natura comportamentale. Quindi questo pomeriggio è essenzialmente dedicato a stimolare questo tipo di attenzione, far capire che certi fenomeni vanno anche razionalizzati. Una cosa è certa, le scuole di Teramo hanno risposto più che bene agli ultimi eventi sismici. Come si è comportata Teramo e le scuole di Teramo al terremoto? Secondo me è bene. Presenti all'incontro promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Teramo, molte mamme che hanno ricordato quei brutti giorni di ottobre e gennaio, ma che guardano avanti. Indubbiamente, come tutte le mamme, anche io ho avuto i miei momenti di paura, le mie perplessità. Però, come tecnico, dico che effettivamente le nostre scuole hanno subito un test importante, hanno reagito bene. Per cui, pur essendo mamma di due gemelli che hanno difficoltà nel linguaggio, due gemelli autistici e quindi nel difficoltà anche nel fare le prove di evacuazione, comunque ho rimandato i miei figli a scuola, cercando di tranquillizzare il più possibile anche le altre mamme. Purtroppo viviamo in una zona sismica. Ce ne dobbiamo fare una ragione, dobbiamo affrontare la situazione, dobbiamo abituare i nostri figli a vivere questa situazione, ma non a farli vivere nel terrore. Cioè, i bambini nelle prove di evacuazione sono stati bravissimi. Chi ha peccato è stata la mamma, un po' ansiosa, che è andata a prendere il figlio. Chi ha peccato è stata la mamma, un po' ansiosa, che è andata a prendere il figlio.